viva colombo in viaggio con rai 1 alla scoperta di cristoforo colombo una guida seria o quasi seria per prepararsi al ciclone colombiadi viva colombo varietà del sabato sera lontano dai luoghi comuni con aldo discardi il trio lopez marchesini solendi simona tagli peppino di capri armando deraza salvatore marino benedicta boccoli mary in gutierez e il tropicana de cuba da genova viva colombo sabato 20 e 40 rai 1 a